Oggi pensiamo ai regali di Natale. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi è uno di quei video che amo tanto perché vi devo suggerire cose belle, qualcosa da regalare a Natale in ambito creativo. Non andrò molto lontano dal mio studio, starò proprio qui nelle vicinanze perché prenderò di volta in volta qualcosa da mostrare o vi apparirà qui la foto di quello che ho intenzione di suggerirvi. Sono tutte cose che posseggo e tutte cose di cui ho una necessità reale. Alcune non le posseggo, alcune le faccio io. Infatti il primo regalo che vi suggerisco lo vedete già qui in bella mostra. Per tutti i creativi non potete fare a meno di regalare il ricettario dell'arte. Il mio libro che trovate in tutte le librerie e nelle librerie online. Mi lascio tutti i link qua sotto. Indipendentemente dal fatto che l'abbia fatto io, ma anche no, il ricettario dell'arte ve lo suggerisco perché è un libro veramente diverso da qualsiasi altro libro ci sia in commercio. O meglio, ce n'era uno che somigliava e devo dire era veramente ad alto livello. L'aveva scritto un certo cennino cennini. Però, ora senza volermi paragonare ai grandi della storia dell'arte, libri di raccolta così è da allora che non se ne vedono. E' un libro appunto di raccolta. È la raccolta di tutte le ricette che ho incontrato nel corso della mia carriera. Ed è pregno, pregno, pregno di fotografie in cui accompagno il lettore passo passo alla creazione del materiale che di volta in volta ha scelto per la sua creatività. È un libro che ricopre tante parti della creatività. Il restauro, la pittura, la decorazione, ma anche la manualità. Quindi gli adulti troveranno anche ricette da poter svolgere con i loro piccoli. Ci sono delle ricette che sono di paste modellabili meravigliose che ho usato lungo tutta la crescita di mio figlio. Ma ci sono le ricette che ho usato per la pittura e che utilizzo tuttora. Le ricette che uso per il restauro. Le ricette che sempre mi riescono quando ho voglia di autonomia creativa. Cosa intendo per autonomia creativa? Quel determinato colore, quella determinata texture per la mia opera. Quel determinato tono di verde che abbia anche quella texture. Perché sapete, certi incroci non sono facili da trovare belli e pronti. È vero, i colori li trovate tutti nei negozi di belle arti. I materiali li trovate tutti belli e pronti e comodamente facili da spremere su una tavolozza. Ma non hanno nulla a che vedere con quello che è raccolto in quest'opera. I materiali che escono fuori dal ricettario dell'arte sono i vostri materiali. I materiali che parlano del vostro creare. I materiali che vi vengono in soccorso quando un vostro colore preferito non è più messo in produzione. O quando avete voglia di fare qualcosa e non avete quel materiale bel e pronto. Qui trovate la soluzione per ogni tipo di problema creativo. È un vero e proprio ricettario. Non vi aspettate un romanzo? Assolutamente no. È un vero e proprio ricettario fatto proprio di misure, quantità, passo passo su come creare un determinato colore. Ma ci troverete le ricette per fare i pastelli naturali. Ci troverete le ricette per fare i pastelli ad olio. Ci troverete i pastelli a cera per i vostri figli. Insomma, o anche per voi, perché la tecnica cera è una tecnica molto bella se sviluppata a caldo, per esempio. Questa è una cosa di cui dovremmo parlare. E allora, regalate il ricettario dell'arte. 18,90 euro, ma molto spesso si trova anche con riduzioni di copertina. Quindi andatelo a cercare e regalatelo. È un libro da avere in biblioteca. Quando mi è stato proposto di scrivere un libro, ho voluto scrivere il libro che avrebbe aiutato me quando ero in accademia. E quindi regalatelo a tutti i ragazzi che fanno il liceo artistico, l'istituto d'arte, tutti i ragazzi che frequentano l'Accademia di Belle Arti. Questo è una manna per tutti loro. Ma regalatelo anche alla vostra amica che ama da sempre dipingere, alla vostra amica che ama da sempre la creatività, ai vostri amici pittori, ai vostri amici artisti. Quindi questo è un libro da avere in libreria. E non perché l'ho scritto io, ma perché è scritto con amore e, lasciatemelo dire, anche con competenza. Quindi ricettario dell'arte, Gribaud Editori, 18,90 euro per un regalo che vi farà fare sicuramente una bella figura. Garantito da ombretta. Questa qua. Allora, dopo il ricettario dell'arte, continuo con i regali che posso mettere io a vostra disposizione. Regalate uno dei corsi di arte per te. A vostra moglie, che tanto avrebbe voluto fare quel corso di pittura, di disegno, o a vostro figlio, che vedete molto proteso verso le discipline artistiche, potete regalare ai grandi il corso di tecniche pittoriche che comincerà proprio da gennaio. Ai piccolini il corso di disegno che comincerà anch'esso da gennaio. Il corso di disegno e creatività artistica per i piccoli. Vi lascio tutte le informazioni e i link a cui fare richiesta qui giù in infobox. Sono due corsi bellissimi che durano da gennaio a fine giugno. Costano entrambi 150 euro a corso. Sono tantissime lezioni, circa 24 lezioni, ad un costo, quindi se vogliamo fare una divisione, di circa 6 euro a lezione. Neanche un cappuccino con una brioche, tra un po' ci si prende con 6 euro. Quindi il corso ha un costo totale di 150 euro, non è scomputabile a lezioni, è un pacchetto intero. Vi aspetto con tutte le informazioni nei video che vi linko qua sotto. Pensateci, è un bellissimo regalo. Molte mogli, molti figli si privano, molti mariti anche, si privano di fare una cosa che gli piace per mettere quei soldini a disposizione della famiglia. Se qualcun altro della famiglia invece regala del tempo a quella persona per riprendere in mano le proprie passioni, è un regalo che va oltre l'oggetto che non è un oggetto. Voi state regalando un'esperienza, state regalando un modo diverso di vivere internet, state regalando la ripresa di una passione. E ai bambini state regalando la possibilità di imparare ad usare internet in maniera costruttiva e non soltanto passiva. E state regalando la possibilità di capire le reali potenzialità di questo mezzo che è spesso demonizzato, ma da cui possono uscire anche tante belle cose. Non da ultimo la creatività dei vostri figli. Quindi aspetto tutti, vi lascio il link qua sotto. Sono bellissimi regali di Natale, tutti e tre questi che vi ho suggerito. L'ultima cosa che vi posso suggerire, che posso fare io, è una consulenza con me. Se sapete che un vostro amico, vostro figlio, vostra moglie, vostro marito ha qualcosa in sospeso, che ne so, un vecchio quadro da restaurare, un vecchio mobile da rimettere su, qualcosa che vuole sistemare, ma non sa come fare, regalategli una consulenza, una videochiamata con me di mezz'ora al costo di 35 euro, in cui io suggerirò passo passo tutto quello da fare per sistemare la cosa che ha da sistemare la persona che mi contatta. Le consulenze possono essere sfruttate per diversificati motivi, cioè consulenze di tutto quello che concerne il mondo artistico. Quindi come procedere per pitturare un quadro, una sorta di mini lezione privata, o come procedere per continuare un disegno, come procedere per continuare un'icona, come procedere per restaurare un pezzo, capire lo stile di un pezzo, cercare la quotazione di un pezzo, insomma tutto quello che richiede, che rientra nell'ambito creativo, artistico, potete contattarmi. E le consulenze hanno la durata di mezz'ora, quindi in mezz'ora potete chiedermi tutto quello che rientra in quella mezz'ora e il costo della consulenza è di 35 euro. Anche questo è un bellissimo regalo, è un'opportunità. Adesso passiamo ai regali oggetti, che sono sicuramente anche questi molto belli, ma che a mio avviso non perché sia io, cioè queste cose naturalmente io vi dico di regalarle con me, perché so di chi parlo e so di cosa sono composte, ma potete regalarle anche fatte nella vostra città, nel vostro paese, un corso di disegno, un corso di pittura, un corso di qualsiasi tipo, un libro d'arte che non sia per forza il mio, il mio però è bello, ve lo posso garantire, il mio corso è fatto bene, ve lo posso garantire, degli altri non so. E poi dei miei corsi c'è la comodità che funzionano senza spostarsi da casa, anche questo è una grande comodità. Pensate anche a questo, porto bene acqua al mio mulino, ecco perfetto. Adesso pensiamo invece ai regali, proprio gli oggetti, i meri oggetti, ma che tanto ci piacciono. Un regalo che ho pensato per un regalino da poco, perché questi regali che vi ho suggerito, tranne il libro che costa veramente poco, gli altri hanno un prezzo un pochettino più sostenuto. Adesso vi riporto a un regalino da poco che è utilissimo, specialmente perché stiamo andando verso la stagione fredda. Tutti i disegnatori, tutti i pittori, tutte le persone che lavorano da ferme hanno bisogno di un accessorio, me compresa, i guanti da pittore. I guanti da pittore sono questi qua e sono quei guanti senza dita, cioè tagliati qua. Ce ne sono di due tipi, ci sono quelli con il guanto che si infila, comunque a cui sono tagliate anche le dita e quelli ve li potete fare da solo tagliando un paio di guanti. Ma i veri guanti da pittore sono proprio quelli senza i fori per le dita, hanno proprio una fessura in cui passano tutte le dita e le articolazioni delle dita, tranne quella del pollice che viene incastrata, rimangono assolutamente libere. Vi suggerisco questi, perché questi appunto non infisciano assolutamente il movimento delle dita, che quindi rimane libero nel poter disegnare, nell'impugnare la matita, nel poter giustrare i pennelli, ma perché invece quelli con le infradita danno un po' fastidio, ingolfano un po' se prima non ci si abitua, e nello stesso tempo riscaldano le articolazioni, le nocchie soprattutto, che in determinati periodi, stando fermi a lungo, possono fare molto dolore, perché il freddo le irrigidisce e quindi i guanti da pittore sono un ottimo, ottimo regalo low cost. Come un ottimo regalo, cosa molto bella, cioè se io la ricevessi abbraccierei la persona che me li fa, sono i pigmenti, eccoli qua, i pigmenti in polvere. Andate in un negozio di restauro, in un negozio di belle arti e riempite un po' di boccette di questi pigmenti naturali. Hanno un costo che può variare a seconda del pigmento, ma se un creativo riceve una cosa di questo genere, gli si apre un mondo, perché con questi può creare tutti i tipi di colore che desidera. Può anche utilizzarli così come polveri da sfumare sui propri disegni. È un regalo veramente originale, ma utilissimo per tutti i creativi. Vi ringrazieranno specialmente se è regalati in combo con il libro che vi dice come usare tutti questi pigmenti. Una cosa di cui un pittore ha sempre bisogno, signori miei, sono i pennelli. Non ne abbiamo mai abbastanza. Ma quali sono i pennelli che vanno bene a tutti? E allora comprate una bella selezione di pennelli a manico corto, perché sono quelli che in casa si usano di più e che anche fanno diventare più agevole l'acquistare dei pennelli, perché hanno un costo minore. Una selezione di pennelli a pelo corto in martora sintetica. Comprate lo 00, l'1, il 2, il 3, il 4, il 5, il 6, il 7, il 8, il 9 e il 10. Se non avete un budget troppo alto vi consiglio quelli a lingua di gatto. Comprate solo quelli e via. Se invece avete un budget leggermente più alto comprateli a punta tonda e a punta piatta. E se poi avete un budget altissimo comprate punta tonda, punta piatta e lingua di gatto. E avrà la gamma completa dei pennelli da pittura più versatili del mondo. La martora sintetica infatti può essere usata in acquarello acrilico ed olio. Quindi è tempera, copre tutte le tecniche in maniera molto molto performante senza spendere capitali. Un bel esempio che io come vedete utilizzo molto è il sintetico mercurio della tintoretto. È sintetico, martora sintetica, ma nello stesso tempo ha delle belle setore lunghe, molto elastiche e si veramente adatta a qualunque tipo di colore. Esiste in tutte le numerazioni, quindi comprate il range che più potete, ma se avete pochi soldi basteranno 5-6 pennelli per fare un bellissimo regalo. Altro regalo bellissimo da fare sono le carte da disegno. Ci sono dei blocchi stupendi che costano veramente un po' e quindi molto spesso il disegnatore si priva di comprare quel blocco. I miei preferiti, come sapete, sono quelli in carta Fabriano. Se sapete la tecnica con cui disegna la persona a cui dovete fare regalo, comprate i blocchi dedicati a quella tecnica. Se invece non sapete che tecnica usa, usate dei blocchi universali come i Mixed Media della Fabriano che sono veramente ottimi. Direi di accompagnare sempre i blocchi ad una confezione di qualcosa. Quindi o una confezione di colore, quindi una confezione di colore relativa alla tecnica che sapete ama il vostro amico, oppure una confezione di colori alternativi come per esempio degli acquarelli metallizzati o degli acquarelli molto particolari come questi qua che sono degli acquarelli, sì, ma in foglietto. Quindi voi portate, vedete qua è tagliato perché una volta ho portato un pezzettino di acquarello via con me, per poter disegnare a lungo e senza occupare troppo spazio. Questi, vi lascio il link qua sotto, non sono economicissimi ma sicuramente sono un regalo che lascerà di stucco qualunque tipo di acquarellista o persona creativa. Vi faccio il fermo immagine, sono i Pearless della Nicholson's e sono veramente degli acquarelli strepitosi. Altra cosa bellissima da regalare è una confezione di questi. Questi sono gli Sharpie e sono dei pennarelli permanenti universali. Da grandi a piccoli, dai bambini più piccoli ai bambini più grandi, quelli della mia età, saranno felici di ottenere questo bellissimo regalo perché questi sono dei pennarelli che scrivono su qualunque cosa, su qualunque superficie e la scritta rimane, quindi è permanente. Hanno dei colori modernissimi, vividissimi e bellissimi e io li uso su ogni cosa. Vanno usati anche sulla ceramica, su veramente qualunque, qualunque superficie e reggono benissimo. Per tutti i creativi sono veramente una manna dal cielo. Scrivono sulla plastica perfettamente, scrivono ovviamente sui cartoni, sulle carte, sulla ceramica, sul vetro, scrivono su qualunque cosa. Se avete degli amici dal cuore verde, le persone che tengono al pianeta, adesso esistono anche colori fatti apposta per loro. In realtà sono colori fatti per tutti e si chiamano i Green Color Arti. Sono della Stabilo e come vedete hanno un certificato che veramente contro la deforestazione, non impattano sull'ambiente. La certificazione FSC garantisce che la provenienza del legno è derivante da foreste gestite eticamente, emissioni zero, packaging reciclato all'80%. Insomma, farete capire nel regalare un qualcosa di creativo, che è un qualcosa di creativo pensato per quella persona che tiene a quel determinato argomento. Sono delle matite tra l'altro che scrivono benissimo e che hanno una stupenda coloritura. Quindi, super consigliate per gli animi verdi. Potete anche regalare una scatola creativa. Per un creativo dovete essere creativi. All'interno della scatola creativa cosa mettere? Ve lo dico io. Sicuramente una pistola per colla a caldo e relative stecche, sia trasparenti che colorate che glitterate. Sicuramente una colla aceto-vinilica necessariamente. Sicuramente una colla vinilica. Poi potete mettere dei barattoli di glitter, dei pompon, dei nastri. Naturalmente accordate tutto in maniera cromatica, in modo che poi le cose possano essere usate. Delle strisce di glitter. Guardate, vi faccio vedere quanto a noi creativi queste cose servono. Io le ho sparse qui sul tavolo. Magari delle fustelle. Le fustelle che più di tutti vi suggerisco sono le smussa angoli, le arrotonda angoli, perché queste servono sempre per creare delle carte, dei bigliettini. Le fustelle che fanno dei cerchi un pochettino più grossi, dello scotch biadesivo, dello scotch carta, della colla in stick, delle forbici, ben se non sono superstiziosi, però se no le forbici evitatele, che alcuni si offendono. Uno scatolino di penne e uno scatolino di matite acquerellabili. Le mie preferite sono quelle della Stabilo. Una scatola fatta così non viene a costare più di 100 euro. È della carta colorata, del cartoncino colorato di vari colori. Esistono direttamente i blocchi, molto spesso li vendono alla Lidl per 4-5 euro e sono veramente una manna dal cielo quei blocchi, perché ti consentono di fare veramente tanti lavori creativi, da scatole a bigliettini. Quindi se sapete che avete un'amica a cui piace, che ne so, lo scrapbooking, piuttosto che fare delle card, piuttosto delle scatoline, allora regalate una scatola di questo tipo, perché le farete un regalo gradito. Le regalerete tutto quello che lei avrebbe dovuto comprare. Vi lascio qua giù in info box quella che è la lista della scorta perfetta a seconda delle materie, cioè ve la dividerò in materie. Vi lascio la lista della scorta per i pittori, la lista della scorta per i disegnatori, la lista della scorta per i crafter, cioè coloro che amano invece fare card, bigliettini, scatoline e via discorrendo. Per esempio la lista dei desideri di un disegnatore potrebbe avere in sé la gomma elettrica, la gomma matita, la gomma pane, un buon tempera matite elettrico o anche un tempera matite manuale, i carboncini, un set di matite, della fusaggine, degli sfumini, una gomma normale e una gamma matite, una latta di gamma matite. Regalare solamente le matite, sì è un regalo, ma si capisce che è un regalo fatto tanto per regalare le matite e tutto il compendio per, se poi ci mettete anche un album da disegno e la ciliegina sulla torta, capite bene che è un bel regalo fatto col cuore. Vi costa dei 40, 50, poi a seconda della pregevolezza delle cose che metterete dentro, ma io vi confeziono qua giù in info box delle piccole box creative che non vi facciano spendere delle cifre esorbitanti e che comunque vi facciano fare un gran bel regalo. Uno di quei regali che anche se è una persona che ha tanto materiale come me, una persona che è da tanto che lavora in quest'ambito, quindi ne ha viste di ogni, qualora lo ricevesse direbbe wow che bel regalo, quindi state sereni che vi faccio fare una gran bella figura. Vi metto in info box anche una box per i bambini con tutte le carte da collage, le forbici adatte per loro, le colle adatte per loro, i pennelli più adatti per loro, insomma una serie di cose che possono aiutare i bambini ad avvicinarsi al mondo dell'arte. I colori buoni adatti per i bambini perché molto spesso noi diamo ai bambini dei colori non soddisfacenti che quindi non li aiutano a performare e che quindi allontanano i bambini dall'arte. Trovate tutto qui giù in info box, create delle box creative perché sono quanto di più bello possa esserci e poi per tutti il regalo. Questo è un regalo che va sia per i bambini che per gli adulti, io ho il mio da tanti anni a cui sono affezionatissima e che utilizzo spessissimo sia in estate che in inverno. Regalate un camice, un camice magari con ricamate le lettere o dipinte, il nome della persona con le cifre, le potete far ricamare sul taschino o qui giù sotto tre dita sotto il petto come per quanto concerne le camice degli uomini, con le iniziali. Un camice è quell'elemento di professionalità e di sicurezza. Il camice è molto importante per noi artisti, ci dà calore durante l'inverno perché è quello strato in più che quando si è molto fermi giova, ci dà sicurezza di non macchiarci i vestiti, ci dà routine, cioè andare al cavalletto, andare alla postazione, prendere il camice e indossarlo significa che tu ti stai immettendo nel tuo lavoro. Dà libertà ai bambini, quella libertà di non spaventarsi perché tanto hanno il camice e non sporcano il maglioncino e la mamma non li rimprovererà. Dà professionalità, è come quando a scuola si andava a scuola con il grembiule, anche noi, come molti mettono su un uniforme per lavorare, anche noi artisti abbiamo la nostra uniforme che è il camice. Ma che colore è il camice dell'artista? Ora, il mio è bianco, non ci fate caso perché io ho comprato quelli da infermieri quando ero in accademia e quello mi sono tenuto, ma grazie ai miei lavaggi è arrivato al giusto colore. Il camice degli artisti in realtà non è bianco. Il camice per gli artisti deve essere grigio e deve essere grigio perché non deve riflettere nessun tipo di luce su quello che stiamo facendo. Quindi deve essere neutro, non devono vedersi troppo le macchie di imbrattatura del colore della matita e quindi deve essere un colore che abbracci queste necessità. Oramai i camici in commercio sono quasi tutti bianchi, quelli grigi costano un po' di più. Se volete regalare un camice grigio, regalatelo, è veramente bello. Fate ricamare o fate stampare sopra in gomma, sapete la gomma rilievo, le iniziali, perché vi viene proprio un regalo che è una sciccheria. Cioè significa io apprezzo e riconosco il tuo lavoro. Se no, coloratelo voi con la coloreria e lo confezionate proprio voi. Ricamate al bene in meglio le iniziali, cioè fate vedere che state facendo un qualcosa per quella persona creativa. Oppure dipingetele le iniziali, potete dipingerle ad acrilico con gli stencil, state tranquilli non se ne andranno mai più via. O meglio, dopo molti lavaggi, oppure fateli ricamare da una ricamatrice. Che ne pensate di questo regalo fuori dagli schemi? È veramente un bellissimo regalo. Bene, questi i miei pochi suggerimenti ma buoni. I miei preferiti? Naturalmente il libro, i corsi, il camice e i guantini. Sapete perché? Perché tutte le altre cose le ho. Ma se non le avessi o se dovessi ricomprarle di volta in volta, quegli altri suggerimenti sarebbero altrettanto preziosi. Quindi scegliete il vostro regalo, pensateci per tempo, fatelo con amore e vedrete che sarà sicuramente un successo. Io vi aspetto qui per il prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Buona preparazione al Natale e fate tanti ben regali. Ciao!